Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò il nuovo visore di Apple, il Vision Pro. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link prodotti e le migliori offerte del momento. Adesso passiamo al video. Apple Vision Pro è il primo computer spaziale di Apple che unisce contenuti digitali con il mondo fisico, introducendo Vision OS, un sistema operativo spaziale che consente agli utenti di interagire con i contenuti digitali in modo tangibile. L'interazione avviene tramite occhi, mani e voce offrendo un sistema di visualizzazione ad alta risoluzione, un sistema di input innovativo controllato da occhi, mani e voce e compatibilità con periferiche esterne. Apple Vision Pro è dotato di una serie di avanzate caratteristiche materiali come il vetro tridimensionale e una cornice in lega di alluminio. Incorpora delle camere sensori altoparlanti e una fascia per la testa per un comfort ottimale. Grazie all'OS Vision OS offre esperienze di intrattenimento coinvolgenti, una fotocamera 3D chiamate FaceTime migliorate e un nuovissimo App Store. Questo sistema operativo enfatizza la connettività e la privacy e dà accesso ai developers a una nuova piattaforma per la creazione di esperienze spaziali. Vision Pro sfrutta le applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale in un'esperienza di calcolo spaziale con il tracciamento degli occhi e i gesti come interfaccia principale. Le applicazioni di AR e VR possono migliorare il processo decisionale fornendo informazioni pertinenti e sintetizzandole in modo efficace. La realtà virtuale porta le informazioni aiutenti mentre la realtà aumentata le analizza in un determinato contesto. Durante il lancio dell'headset di Mixed Reality Apple Vision Pro, Apple ha introdotto il concetto di Special Computing posizionando Vision Pro come una nuova frontiera nella tecnologia personale. Il dispositivo che si prevede di lanciare l'anno prossimo punta a rivoluzionare il calcolo spaziale fondendo in modo indistinguibile i contenuti digitali con il mondo fisico. Infine, per sapere quando sarà rilasciato Apple Vision Pro, sarà disponibile negli Stati Uniti all'inizio del prossimo anno con un rilascio internazione previsto più avanti nel 2024. Ecco, grazie per aver seguito questo video, spero che ti sia stato utile. Non esitare a mettere un like, un commento e addiscrarti al canale, è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione, puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.